Il corpo senza vita di Rosa Gigante è stato rinvenuto dai familiari nella sua abitazione in via vicinale Sant'Annello, una traversa di via comunale Napoli a Pianura. Sul posto i poliziotti del commissariato locale e quelli della squadra mobile della Questura. Al momento la dinamica è in fase di accertamento, così come i motivi dell'omicidio. All'arrivo dei sanitari del 118 ci sarebbero stati momenti concitati con i familiari della donna. La situazione in zona resta molto tesa. Una donna sarebbe stata fermata, la sua posizione sarebbe al baglio degli inquirenti, il figlio della vittima sarebbe stato tempestivamente informato della tragedia. Ha lasciato il suo negozio di salumerie e street food in via Pignasecca e serrecato nella casa materna. La notizia però in un batter d'occhio è propagata sui social e ovviamente fra i residenti della popolosa zona residenziale.